Ciao a tutti, oggi vorrei farvi vedere il nodo di Alexa Remote 2, come inizializzarlo e come utilizzare i nodi principali. Non andremo ad analizzare tutte le caratteristiche, andremo a vedere quelle che sono le funzioni principali che ci possono servire e come poterlo utilizzare. Prima di procedere dobbiamo installare la palette di Alexa Remote 2, quindi sul nostro Node-RED andiamo nel menu in alto a destra, Manage Palette, tra quelle da installare andiamo a cercare Alexa Remote. Troveremo l'unica paletta Alexa Remote 2, la installeremo. Io l'ho già installata, una volta installata ci piegherà qualche minuto, i nodi saranno già immediatamente disponibili e non ci sarà bisogno di andare a riavviare Node-RED. Andando a cercare le nostre palette nuove, abbiamo tutte queste azzurre, queste due che vedete in più sono di un altro nodo. Cosa dobbiamo fare per farla utilizzare? Innanzitutto dobbiamo trascinare uno dei nodi e andare a creare la prima configurazione server, nodo di inizializzazione. Il nodo di inizializzazione ci servirà soltanto in questa fase, perché una volta inizializzato non ne avremo più bisogno. Andiamo a creare quindi un profilo nuovo. Ah, ce n'era già uno di Node-RED Italia, andiamo a cancellarlo, così lo ricreiamo da nuovo. Uno è quello mio delle attuali configurazioni, andiamo a creare un nuovo. Lo chiamiamo Node-RED Italia. Metodi di autenticazione, lasciate proxy. Gli altri due sono cookie ed email, ma il cookie manualmente è difficile da reperire, email e password non funziona più da quando Alexa, da quando Amazon ha inserito la doppia autenticazione. DCP, qui dentro va inserito l'IP della macchina, l'IP LAN della macchina sulla quale gira Node-RED. Non è localhost, non può essere utilizzato localhost a meno che non stia girando localmente sul pc che stiamo utilizzando. In realtà qui l'IP di LAN e non l'IP dei container. Quindi è sempre un 192, 168, un 10. Non è il 172 che prendono i docker in automatico. Porta. Lui propone la 3456. Io per problemi tecnici non posso usarla, ne userò la 3455. File path. File path è il percorso al quale la sessione di Node-RED deve avere accesso al livello di file system dove andare a registrare il file del cookie. Registrare il file non è obbligatorio, ma è suggeribile perché? Perché il tutorial che ci sono in giro fanno vedere il salvataggio del cookie come variabile di flow. Va bene, funziona, non ci sono problemi. Il problema si pone nel momento in cui viene riavviata la macchina dove gira Node-RED. In quel caso tutte le variabili di flow vengono azzerate, non vengono cancellate. Quindi voi dovreste riautenticare ogni volta che riavviate la macchina. Ve lo sconsiglio. Utilizziamo il file path. File path anche qui cambia da versione a versione di Node-RED installate che state utilizzando. Windows ha un tipo di percorso, Linux ha un altro tipo di percorso, Docker ancora. Analizziamone uno. In questo momento io sto usando un'istanza di Node-RED all'interno di una macchina virtuale, all'interno di Docker sotto Home Assistant, come add-on di Home Assistant che è la versione che probabilmente la maggior parte di noi sta utilizzando. Quindi dovrei utilizzare un percorso abilitato da quel Docker specifico, ma siccome non ce ne sono tanti e soprattutto l'immagine si resetta quando viene riavviata, abbiamo però una cartella che possiamo sfruttare che è comune, che è la slash config. La slash config all'interno di Node-RED va a puntare nella cartella di configurazione di Home Assistant. Quindi noi ci troveremo il file del cookie fra i file di configurazione di Home Assistant. Quindi lo chiamo config, lo chiamo Alexa node-RED Italia.cookie. Non è necessario, non è obbligatorio mettergli un'estensione, la metto per riconoscere io il tipo di file node-RED Italia.cookie. Refresh ogni tre giorni va bene. Auto-inizializzazione va bene in onna, così ogni nodo si inizializza, così evitiamo di dover avere bisogno ulteriormente del nodo inizialize. Events, on, poi capiremo il perché. Service host, qui vanno inseriti server regionale di riferimento per le funzioni lambda e per le funzioni di Alexa. Per l'Italia, che dipende dall'Irlanda, si utilizza Alexa.amazon.it, page.amazon.it, language.it slash it in maiuscolo, scusate, dash it in maiuscolo. Qui serve per capire qual è la lingua che deve utilizzare Alexa poi per tradurre gli intent. E mettiamo add. Lo lasciamo così. Facciamo il primo deploy. Prendiamo il nostro amico debug. Debug già ci offre due warning. Ti dice attenzione non trovo il file a la config a la ex node-RED Italia.cookie. Vero, non esiste. Perché? Perché lui la prima cosa che fa va a cercare il file. Se trova il cookie si inizializza, altrimenti mi dice di aprire il browser in pagina 19168-3455. Ricordatevi che voi avete 3456. Vado ad aprire la pagina e mi trovo alla schermata di connessione al sito di Alexa. Metto la mia mail, metto la mia password e mi dice che il cookie è stato ottenuto. Adesso vado a rispetto qua. Io dovrei aspettarmi di vedere Ready. Perfetto. Posso chiudere la pagina di autenticazione. Il nodo è inizializzato. Se io vado a vedere nel file editor mi dovrei trovare il file. Andiamo a vedere nel mio file editor, nella mia cartella config, Alexa node-RED Italia cookie. Questo è il bio cookie di autenticazione. Torniamo su node-RED. Adesso iniziamo a lavorare con Alexa. Questo posso anche evitare di metterlo, non mi serve più. Cerchiamo Alexa. Iniziamo subito con la parte di smartphone, di smart home. Interagiamo subito con i device configurati su Alexa. Questa palette non crea device da far utilizzare ad Alexa, ma al contrario andiamo noi ad interagire con i dispositivi che lei già conosce. In che maniera? Smart home action. Lo apriamo, selezioniamo il nodo che ci interessa, quindi il nostro nodo red Italia e qui abbiamo una serie di operazioni che possiamo usare. Get, query, action, discover for get. get. Mi fornisce una lista di tutti i dispositivi conosciuti da lei, configurati, attivi e operativi. Query. Vado ad interrogare lo stato di uno o di più dispositivi per le loro proprietà. Adesso ne vedete uno qua, posso selezionare tutte le proprietà, il power state, semplice on e off e la connettività, se raggiungibile oppure no. Action. Vado a comandare uno di questi dispositivi, quindi qui seleziono tutti i miei dispositivi e qui per ogni tipo di dispositivo io ho un comando on e off oppure livello eccetera eccetera. Cosa succede? Che se io configuro qui dentro il dispositivo, il trigger che gli servirà in ingresso può essere qualsiasi perché la configurazione è già completa e quindi non ho bisogno di fare niente, ma l'action è solo turn on e turn off. Adesso ne prendiamo uno in esempio di una stanza che io ho qua vicino. Camera da letto sinistra, turn on, diamo on, aggiungiamo un inject, mi basta un timestamp qualsiasi. Questo abbiamo dato un action, quindi dopo ne prendiamo un altro, andiamo a fare il query, andiamo a interrogare questo interruttore in che stato è. Six, no abbiamo detto che andiamo a fare il query. Tutte le proprietà? No, voglio soltanto il power state, voglio sapere soltanto se on e off. Mi sono perso la luce. Eccolo qua. Gli diamo questo, in un nodo debug con tutto il messaggio che collego qua. Un altro inject qua per andare a vedere il power state. Deploy, andiamo a vedere. Primo, accendo la luce. Inject, sending, successful. Vado a vedere, vado a interrogare lo stato del power. Mi arriva il messaggio, mi dice che il payload è on. Come faccio adesso a spegnere questa luce? Ho due maniere. O mi creo lo stesso comando e gli vado a dire turn off e di conseguenza mi vado a creare un altro timestamp. Lo collego, vado qua dentro, cancello così non mi confondo con i telegrammi, vado a mandare un messaggio, vado ad interrogare e lui mi dice che è andato in off. Oppure posso scegliere di fare un'altra maniera. Cioè scelgo di non dargli nessuna configurazione. Sarò io. Quindi questo nodo adesso mi aggirà da nodo generico di azione. Vale per tutti. Sarò io che con il mio payload andrò a stabilire se voglio accendere o spegnere una luce. Come faccio? Andiamo a vederlo. Smartphone action. A questo punto cambia il tipo di payload perché sarà il payload che è quello che mi definisce qual è l'azione e su quale entità. Quindi ho bisogno di un po' di spazio. Mi creo un altro timestamp qua. Il payload a questo punto cambia. Non sarà più un timestamp ma sarà un oggetto json. Perché? Perché il nodo lo vuole in un modo specifico. Vuole un array di json con l'azione e con il valore. L'array di json si fa aprendo le parentesi quadre e poi aprendo la parentesi graffa. Dobbiamo specificargli una entity e il nome del mio interruttore che era camera letto sx e poi dobbiamo specificare una action sempre tra virgolette che per questo caso è una turn on. Chiuso l'array. Perché lo vuole in array? Perché io posso mandare più comandi. Posso accendere due luci contemporaneamente. Basta che qua io aggiungo una virgola e aggiungo un altro array JSON con le stesse caratteristiche. Camera letto dx. Così avrei due comandi, scusate, un solo comando, due azioni. Ma a noi in questo momento interessa soltanto la luce, una luce sola. Mi copio questo perché andrò a copiarlo come turn off dell'altro. Questa la chiamiamo turn on. Secondo comando, oggetto json. Copio il comando, ma il comando a questo punto non è più turn on ma è turn off. Perfetto. Collego questo. Questo comunque lo chiamo turn off. perfetto. Faccio il mio deploy, cancello le mie righe, vado ad accendere la luce e andiamo a interrogare lo stato. Lo stato mi dice che è on. Perfetto. Potrei anche fare una cosa di questo tipo così almeno evito di fare il secondo inject. Vado a spegnere la luce, mi mando il comando e la luce è andata in off. Non ho un'altra webcam per farvelo vedere ma la luce effettivamente si è accesa e la luce effettivamente si è spenta. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un nome topic che è la mia entità e il suo payload che è il suo stato. Adesso andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo a vedere quelle che possono essere le altre situazioni. Quindi andiamo a vedere come far parlare Alexa. La routine speak. La routine speak è complicata per certi versi ma può essere d'aiuto. Abbiamo diversi, le routine sono diverse, ci sono diversi comandi quindi posso dire, posso parlare, posso parlare a un volume preciso, posso aspettare, posso fare una serie di operazioni. Adesso vediamo soltanto la parte speak per non stare a fare un filmato troppo lungo. Come facciamo a parlare Alexa? Possiamo farla parlare regolarmente, quindi con il tono piano che utilizza sempre, oppure con l'SSML che non mi ricordo esattamente cosa voglia dire ma comunque è la modalità tramite markup language di dare personalità e di dare enfasi alle parole, alle frasi di Alexa. Lo vediamo in un altro momento perché questo richiede probabilmente un video soltanto per lui perché è un po' complicato da formatare. Quindi andiamo sul regola. Testo. Il testo può essere messo in diverse maniere. Il testo può essere una stringa, può essere un oggetto che io gli passo dal messaggio, quindi io posso fare un inject con un payload ciao Marco e lui mi direbbe ciao Marco, basta che qua io mettessi message payload. Quale device? Questi sono tutti i miei device configurati in questo momento. decido di prenderlo da quello della sala. Posso dire che lo stesso messaggio deve andare su più device, quindi posso sceglierne un altro. In questo momento prendiamo soltanto, anzi prendiamo questo del bagnetto che è il più vicino e gli diamo done. Oh, non ho configurato il nodo, ah si ho configurato il nodo. Cosa ci vuole? Ci vuole il nostro solito inject. Siccome è già tutto, adesso abbiamo dato da message payload, quindi nel nostro inject il payload sarà una stringa. Ciao Marco. Andiamo done. Questo adesso lo connettiamo qua e vediamo poi che cosa esce. Dovrebbe darci un sas ex. Cancelliamo i nostri debug. Svoltiamo tutto quanto. È andato in ready. Ciao Marco. Non so se si è sentito sullo sfondo ma in effetti l'Alexa mi ha salutato. Questo è un'altra possibilità. Andiamo invece adesso a vedere quello che è il nodo event. Vi ricordate che quando abbiamo configurato il nostro server gli abbiamo detto event on? Perché? Perché facendo, comunque avendo abilitato quell'opzione io posso andare a intercettare tutti i messaggi che vengono dati ad Alexa. Sia che siano comandi che hanno avuto un seguito, quindi che hanno avuto successo, sia i comandi che non hanno avuto successo. Quindi, non mi ricordo se l'ho configurato giusto, se diverse activity, qui posso dirgli tutto quello che è connessioni, errori, connessioni, hanno un message, diverse activity. prendo tutto e gli do il deploy. Cancello i messaggi. Prendo Alexa sul cellulare perché faccio prima. Alexa accendi luce cabina armadio Marco. Ok. Eccolo qua. Che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un messaggio. Questo messaggio cosa dice? Ha un payload, ha dei dati, quindi una serie infinita di cose che servono poco, a noi serve description. Description ci dice qual è stato il comando che è stato, luce cammino, va bene, l'ha interpretata lo stesso, qual è stato il comando che io gli ho dato e da chi è arrivato il comando. Questo cosa ci aiuta? Questo ci aiuta nel poter interpretare i comandi dati a una macchina, a una specifica Alexa, anche comandi che lei non è in grado di interpretare. Per cui se adesso io prendo Alexa e gli dico Alexa Maccabanane, lei non l'ha capito, nel senso che proprio non ha registrato. Alexa Maccabanane. Mi ha riconosciuto un... Alexa 1. Ok. Rivediamo questo, vediamo l'oggetto. Descrizione. Alexa e basta, quindi mi aspetto che questo sia l'altro payload. Ok. È un po' sordo il mio cellulare, portate pazienza, però qui io ho riconosciuto il messaggio di chiamata iniziale di Alexa e qui io posso andare a beccare delle informazioni. Vi faccio un esempio pratico, l'avevo già postato sulla pagina di Node-RED Italia, vi faccio vedere qua che cosa succede. Io qua ho il mio logger, quindi è il mio nodo di ascolto. Dopodiché faccio una switch. La switch gli dico che se il payload name, cioè se il payload name, quindi chi è l'Alexa che ha sentito il messaggio e uno di questi due, va a fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi se vado in sala e io dico Alexa tele e l'Alexa della sala mi ascolta Alexa tele, che è un comando che lei non sa che cosa vuol dire, quindi mi darà l'errore di comando, però io so che invece posso interpretarlo. Quindi parto con una sequenza di azioni. In questo caso vado a spegnere delle luci, vado a impostare una luce dim per guardarmi la televisione. Se io vado a dire ad Alexa del bagnetto, le vado a dire che Alexa doccia o Alexa ho finito, cosa fa? Se gli dico Alexa doccia, prende la prima uscita e mi abilita un programma per la doccia. Riscaldatore, setpoint, eccetera eccetera. Dopo tre secondi cosa fa? Mi mette Radio 105 perché io quando voglio fare la doccia voglio sentire Radio 105. Quando invece le dico che ho finito, cosa fa? Spegne il programma della doccia e mi spegne anche la radio. Metto un delay di 100 secondi più che altro per... in realtà non sono necessari. Sono necessari su questa porzione qua perché il programma della doccia ha un feedback su Alexa che dà la temperatura. Per questo poi c'è un delay di 3 secondi prima di attivare la radio. Mentre invece su questa parte qua, per non intasare il bus della domotica di casa lascio passare del tempo. Qui ci sono e quindi comunque per un comando via l'altro aspetto con qualche secondo, qualche centesimo di secondo prima di mandare i comandi. Anche qui abbiamo visto come poter interagire con Alexa. Tra le routine noi abbiamo anche altre opzioni che riguardano tutta la parte di prompt, di messaggistica, di musica. Io posso dire... posso vedere della musica specifica, gli posso dire chi voglio che sia la musica. Posso lanciare le skill. Quello che abbiamo visto di Radio 105 è una skill. Quindi io vado qua dentro, vado a cercarmi tutte le skill che io ho... devo dargli prima la configurazione, scusate. Lanciami la skill. Quale skill? Radio 105. Ok? Queste sono tutte possibilità che ci sono, sono infinite. La costruzione dei JSON, degli array di comunicazione è un po' complicata, ma ci sono per ogni nodo, routine speak, ci sono i LELP in linea che è abbastanza chiaro. Comunque se non fosse chiaro le assistenze si trovano sempre. Niente, questo è Alexa Remote 2. Divertitevi, giocate come sempre, fare esperimenti, continuare a sperimentare, continuare a provare, continuare a vedere quali sono le migliori soluzioni. Ciao e alla prossima!